Sulla Liga Veneta non è vero che appoggia la sinistra perché il segretario ha smentito questa cosa, sono tre rappresentanti, tre iscritti alla Liga Veneta. Per quanto riguarda poi, siccome bisogna essere precisi, io ho ministrato tre anni e non cinque, ma sono orgoglioso di far parte del centro-destra e credo, ribadisco, che il governo di centro-destra stia facendo bene, ha fatto bene a dire a fermare l'immigrazione clandestina finalmente nel nostro paese. Un'altra questione sulla... Avete fatto entrare un milione, dopo un milione è entrato e avete deciso di fermarlo, ma un milione è stato entrato. Diciamo che per la sinistra dovevano entrare due milioni, noi invece li abbiamo fermati. Allora, un'altra questione calda, diciamo, che in qualche maniera ha a che fare con l'immigrazione, è stato il progetto di costruire per esempio una moschea a Padova. Lei in Marina era contrario? O è contrario? Sì, certo, sono contrario. Vede, ci sono dei diritti che sono garantiti dalla Costituzione e questi non li può garantire un sindaco o un presidente di regione, li garantisce la nostra Costituzione, poi io sono un cattolico e penso che se uno prega il suo Dio sicuramente poi sarà più buono. Detto questo, la polemica c'è stata perché era stato assegnato un terreno di proprietà comunale, un edificio di proprietà comunale per la costruzione della moschea e noi crediamo che questo non sia giusto. Anche le chiese dei cattolici, i cattolici non costruiscono le chiese su terreni di proprietà comunali e su edifici di proprietà comunali. Ed è per questo che la città si è indignata in questo senso. Ognuno costruisce le proprie chiese ma non si costruiscono delle corsie preferenziali. Posso anch'io? Sì. Ecco, grazie. Zanonato, lei la farebbe costruire questa moschea? È a favore? Beh, allora abbiamo dato in concessione un'area dove è un'area e un edificio che era abbandonato da un decennio dove non c'era assolutamente nessuno e non né l'amministrazione della destra di Marie, né l'amministrazione successiva aveva inventato qualcosa per utilizzarla, l'abbiamo data in concessione e cioè facendosi pagare un affitto attraverso dei lavori di riqualificazione. Questa era l'ipotesi. Era talmente tanto vantaggioso per i cittadini musulmani che hanno detto no grazie, non ce la facciamo e si sono trovati un loro posto. Il problema è che i diritti vanno garantiti a tutti, non è che noi dobbiamo come dire osservare i fenomeni, dobbiamo per integrare i cittadini anche creare tutti quei meccanismi attraverso cui con loro possiamo stabilire un rapporto positivo. C'è anche una questione di integrazione, no? Sbaglio, è una domanda che faccio a entrambi. Ma c'è una questione enorme, c'è un'enorme questione di integrazione. La sicurezza, questo è un punto di differenza tra noi e la destra, non si può garantire soltanto con la repressione, che è uno strumento indispensabile. Si garantisce anche con processi di integrazione. E cosa saranno mai questi processi di integrazione se non offrire degli spazi, dei punti di aggregazione, dei momenti per stare insieme? Marini, qual è la vostra recente per l'integrazione? Certo, sull'integrazione, le ho detto prima, la nostra città è una città che ha nel DNA la solidarietà e l'accoglienza e anche la nostra coalizione si fa forte di solidarietà e accoglienza. Tra l'altra cosa è una città dove il volontariato cattolico è molto forte, è la vera capitale del terzo settore, Padova. Detto questo è del volontariato. Detto questo, entra solo chi rispetta le regole. Allora io credo che sia importante braccia aperte per chi viene qua a lavorare, a far crescere la nostra città e a trovare una vita dignitosa e di più. Ma bisogna spiegare a tutti coloro che vengono che le regole sono uguali per tutti. Noi non crediamo che l'integrazione sia quella che prevede delle corsie preferenziali. Non è un sindaco che garantisce la costruzione di una moschea, è assolutamente la Costituzione italiana e lo si fa secondo le regole che valgono per tutti. Noi crediamo che le risorse vadano investite in questo senso. Allora, ad entrambi faccio l'ultima domanda. Prima a Marin, il suo sogno nel cassetto, cosa vorrebbe fare per Padova? Guardi, nei primi cento giorni ho detto due cose che vogliamo fare. La prima riguarda la sicurezza e glielo ho detto prima, è un tema molto sentito dai cittadini e non fare niente e fare il male della propria città quando i cittadini ti avvertono di questo. La seconda è un tavolo delle eccellenze perché la nostra è una città che ha un polo sanitario d'eccellenza, un'università d'eccellenza, un polo logistico d'eccellenza, categorie economiche d'eccellenza, volontariato d'eccellenza, mondo culturale d'eccellenza. Siamo una città che finalmente può giocarsi il ruolo di capitale nord-est. Si creano dei grandi assi viari, il corridoio 5, c'è il passante di Mestre, ci sarà la metropolitana di superficie regionale. Dobbiamo giocarci il ruolo di capitale all'interno di quel Padova, Treviso, Vicenza, Venezia. Come possiamo farlo? Chiudendosi nel palazzo? No. Cambiando, aprendoci alla città, la nostra è una città importante, con tante eccellenze. Io credo che una città dove non ci sono i nemici, tanti nemici e pochi amici, ma che sia la città di tutti e per quello mi candido a fare il sindaco per Padova, possa esercitare questo ruolo e porterà dei grandi vantaggi alla nostra università, alla nostra economia e quindi anche alle persone che hanno difficoltà. Zaronato, e lei cosa deve fare per farsi rieleggere sindaco? Ma intanto mi propongo come il sindaco di tutti e non come il sindaco di una sola parte. Qui viene dipinta una situazione che sembra in qualche modo prefigurare uno scontro tra Guelfi e Ghibellini. Io sono stato il sindaco di tutti. Mi hanno parlato quelli di destra e quelli di sinistra. Ho incontrato tutte le persone che hanno voluto confrontarsi con me, ascoltato sempre tutti, così continuerò a fare. Sugli impegni concreti, la prima cosa che faremo è realizzare una nuova questura nel piazzale della stazione per bonificare quella zona verso l'Arcella e verso il centro, un punto particolarmente delicato. E poi un fortissimo impegno in direzione degli anziani e dei giovani. Sono due categorie che soffrono. una delle cose che non faremo è consentire nuovi centri commerciali in città. Un centro commerciale chiude 500 botteghe. Grazie a Flavio Zanonato, il sindaco uscente di Padova, per il centro-sinistra, per il centro-destra. Ringraziamo Marco Marin. Grazie, buonasera a tutti. Noi ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria. Quando torniamo parleremo del referendum. A tra poco.